bene signori in questo episodio parleremo di john diringer come molti di voi sanno abbiamo replicato il colletto del nuovo gangster degli anni della grande depressione americana un gangster che si è fatto notare per la sua eleganza sia esteriore vestiva alta sartoria cappotti abiti il suo cappello immancabile ma anche per la sua eleganza per quello che faceva perché ogni volta che rabbinava una banca pensate bruciava tutti i fascicoli dove c'erano scritte ipoteche e prestiti della povera gente facendo così avvicinò tutta la popolazione americana di venne veramente un idolo definito il robin hood degli anni venti e subito john edgar huger insieme all'fbi prese le sue tracce per catturato veramente definito il nemico pubblico numero uno ma non per la sua pericolosità ma per la grossa fama che si stava creando negli stati uniti d'america una fama che superava addirittura gli agenti federali la polizia locale era amato da tutti un'eleganza veramente anche un fascino incredibile john dinge un uomo elegante un'altra epoca